che che situazione avete scritto francesco è una puzza di palle ed ascelle e ascelle puzza di palle e ascelle è una bella miscela anche bravo eccoci qua facce serene marcoli buongiorno ma che pure poi tra l'altro anche ripulito tutto sommato eccolo qua un po meno l'arcigno prezzolini cerca del cibo eccoli prego ecco nome per gentilezza prezzo la stanchezza comincia a chiedere il conto no 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 negativo no no quattro dietro però tanto scende lui non è costa laterale si guarda che merda o a parte rega io facendo il partito